La futura zona di colmata a Chiavari, una volta realizzato il depuratore, avrà un'estesa area pubblica sulla quale, tra le altre cose, l'amministrazione Messuti intende realizzare un moderno campus scolastico. Un progetto che il sindaco ha ribadito in questi giorni, rispondendo alle critiche degli ambientalisti e delle parti sociali sul depuratore di Vallata. Anche l'aspetto della scuola, infatti, aveva ricevuto la mentele. Come cittadino di Chiavari sono rimasto molto perplesso su questo progetto, perché praticamente Chiavari, il centro storico, vive sulla presenza dei ragazzi, dei giovani, delle scuole. C'è tutta anche una realtà commerciale che vive anche sulla presenza dei giovani e anche degli insegnanti. Quindi crediamo che sia veramente assurdo questo progetto di ghettizzare praticamente la scuola incolmata a mare. Questioni di punti di vista, replica Messuti, il ragionamento di Sanguinetti è logico, dice, ma se avessi la possibilità di scegliere, perché non dovrei mandare un figlio in una scuola nuova, moderna, situata davanti al mare, con tutti i servizi e gli impianti sportivi vicini? Questa è l'idea, portata avanti dalla Giunta e che piace anche a città metropolitana. Sulla carta non c'è ancora nulla, se non dei contatti con l'ente di Palazzo Spinola, che ad oggi paga la locazione per molte strutture scolastiche. Certo, non è un progetto che si realizza in due giorni, l'iter sarà lungo, c'è l'idea anche di cercare bandi di finanziamento. Insomma, difficile ma non impossibile, prosegue il sindaco di Chiavari, noi abbiamo la volontà di proseguire in questa direzione. Un campus unico e non una frammentazione di istituti. Il tema accende la discussione e la minoranza chiede di approfondire tutta la questione relativa al progetto del nuovo depuratore di Vallata. Silvia Garibaldi chiede un aggiornamento in consiglio comunale e lo stesso Andrea Sanguinetti invita al coinvolgimento dei chiavaresi. Noi chiediamo un concorso di idee su quest'area di Colmata, che potrebbe essere uno sviluppo importante per il turismo, ad esempio a Chiavari o anche per la cultura.